Cari fratelli e sorelle, Nei giorni scorsi, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per un secciato fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo, richiamando l'attuale emergenza per il Covid-19 che non conosce frontiere. Un appello accettato il fuoco totale. Mi associo a quanti hanno accolto questo appello e invito tutti a darvi seguito, fermando ogni forma di ostilità bellica, favorendo la creazione di corridoi per l'aiuto umanitario, l'apertura alla diplomazia, l'attenzione a chi si trova in situazione di più grande vulnerabilità. L'impegno congiunto contro la pandemia possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni, come membri di unica famiglia, in particolare susciti nei responsabili delle Nazioni e nelle altre parti, in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalità. I conflitti non si risolvano attraverso la guerra. È necessario superare gli antagonismi e i contrasti mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della pace. Angello, Zomini, Nunziavid, Maria, Grazie a tutti.